Ehi voilà cari amici, benvenuti a Vado a Liscio con Nicola Marchese 3938489561 per mettervi in contatto col sottoscritto, saluto l'amico Fulvio che mi ha preceduto e ragazzi tante belle canzoni vi aspettano, primo messaggio si è già caparrato la prima canzone l'amico Paolo di Parma che mi manda il messaggio in anticipo e mi dice Ciao Nicola, un grande saluto a te e Cocò, buon weekend a tutti, mi faresti ascoltare Alba e Tramonto dalla nuova Romagna Folk, Paolo di Parma, salut, buon ben, PS per il weekend è un po' presto, però va sempre bene, se riesco sabato sera ti vengo a trovare a San Polo, dai, dai, dai che così ci conosciamo di persona, pronto, buongiorno, con chi parlo? Ciao Nicola Ciao Anna Aiuto, qua sta diluviando Ma davvero, qua da me no, qua da me no Madonna, acqua, vento, tuoni Stai attenta perché oggi sono previsti temporali forti, eh, mi raccomando E' tremendo, ascolta, ti chiedo la canzone piove di Amarco Datti, tanto che riesco a fare la televisione perché mi sa che sparista tutto Ai, 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 va bene, volentieri ti ha contento E' allucinante, mi sono chiusa in casa come un topolino Mamma mia ragazzi, state attenti davvero, ciao Anna, grazie Ciao, ciao, ciao Eh ragazzi, erano previsti questi temporali, eh, almeno così ci rinfreschiamo da una parte, però quando arrivano questi temporali va a finire che qualche danno, da qualche parte, arriva sempre La nuova Romagna Folk per il mio amico Paolo di Parma, che poi in realtà è a traversetolo, è qua vicino San Polo Denza dove ho gli studio, pertanto è normale che mi viene a trovare sabato Dai, dai, anzi ne approfitto e saluto anche la mamma Paola, eccola qua, Alba e Tramonto E guarda, questa era la nuova Romagna Folk con Alba e Tramonto, richiesta da un amico Paolo Ne approfitto, ne approfitto caro Paolo per salutare in questo momento, perché lo vedo collegato sulla pagina Facebook Nima Radio TV, Claudio Vanedola, nonché marito della Vanessa Silvani, Brani, che orchestra che tu di solito, caro Paolo, chiedi con le varie polche, no? Allora ne approfittiamo e salutiamo Claudio e Vanessa Silvana di Budrio mi dice, ciao Nicola, io ti chiederei di ascoltare, non c'è più niente, ciao, grazie, ma certo che ti accontento, cara Silvana, ci mancherebbe E poi c'è Giulia che mi manda il messaggio, mi fai sentire Codazzi, tac, allora ci sta proprio a pennello con piove, visto il tempo che si sta riversando in quei di Fidenza, provincia di Parma, perché qua ancora Nisba, non c'è niente, è ancora nuvolo nuvolo, però non piove, aspettate che c'è una telefonata, pronto? Pronto Nicola? Ines, buongiorno Ciao Nicola, ma ciao Ciao cara, come stai? Eh, sto, sono qui, sono qui che ti guardo Mi fa piacere, eh, beh, fai bene, ci mancherebbe, tutto a posto? Ti guardo sempre, guarda come sei bello, guarda Insomma, hai visto che magliettina colorata che ho messo stamattina? Ho visto, c'è un bel colore che ti dona Perché è vero che il nero sfila, però, insomma, sono troppo cupo, hai capito? Sì, sì, no, no, ci vuole il colore d'estate un po' Ci vuole il colore, come eri colorata tu la sera che sei venuto a trovarmi, un bel maglioncino colorato Tricolore se non sbaglio, vero? Eh, l'hai messa a posto per l'Italia Va bene Ines, tra poco ti accontento con una canzone, ok? Mi fai sentire la canzone di Montali? Mo' volentieri, Montali, già segnato Ho la voglia di sentire Montali Ciao cara, grazie Ciao, ciao Grazie a te, Nicola Ciao, 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 ciao Un bacio, un bacio, un bacio alle mie fans Ecco qua che arriva, intanto piove di Omar Codazzi Per Anna Chiesa e anche l'amica Giulia che l'ha richiesta E voilà, mi si è cancellato il video, no, era finito In realtà, mi è arrivato un messaggio orora da mio padre in quei di Parma Qua a Parma piove già E arriverà anche qua perché è previsto un po' dappertutto Questo cambiamento climatico che ci porterà un po' di abbassamento delle temperature Va bene? Così non avremo più questa affa Però va a finire sempre che poi rompe le scatole Proprio quando non deve perché c'è qualche serata, giustamente Deve rompere proprio lì Ma a noi non ci rompe le scatole perché venerdì avremo questo appuntamento In quei di Castione Baratti Se c'è un po' d'acqua si fa lo stesso sotto il portico Dell'agriturismo Bella Ripa Strada della Ripa 12 a Castione Baratti Traversetolo, Parma Venerdì 16 luglio delle ore 20 e 30 Cena e musica sotto le stelle In caso sarà sotto il porticato se piove Info e pronotazioni 340-5895-967 Musica proposta da Nicola Marchese, Monica e Maio Antipasto con salumi misti, torta fritta e polenta fritta Tortelli d'erbetta Grigliata mista di carne con patate, dolce, acqua, vino e caffè 30 euro compreso lo spettacolo E' proprio qui che ci vorrebbe davvero il ballo Per poter digerire tutto questo ben di Dio Ma ahimè non si è boffa Andiamo in musica, accontentiamo L'amica Silvana di Budro E dopo vi dico una cosa Perché ieri avete sentito il mio sfogo sul discorso partite Mica partite Sono stato anche attaccato su Facebook Perché in un videoclip Ho visto un po' di assembramenti in quei di Piazza Garibaldi a Parma E allora io ho scritto non ce l'ho fatta tacere Ho scritto tutti i pecoroni Perché sì Perché se è stato vietato il poter fare Il poter guardare la partita Con i maxi schermo Dopo si sono riversati per festeggiare tutti In piazza E beh penso che il sindaco Se ha vietato di fare il maxi schermo Non penso che era d'accordo Per il tifo a fine serata Anche se da una parte Non dico che non bisognava tifare Sia chiaro Però mi sento un po' preso per i fondelli Come dicevo ieri Visto che ancora non possiamo assolutamente lavorare Un signore mi ha detto Parli proprio tu così che lavori con il pubblico Sì ma io lavoro con il pubblico intelligente Mi sembra di aver capito Quel pubblico che mi sta guardando in questo momento Quel pubblico che si sta vaccinando Che vorrebbe tornare a ballare Invece per colpa di questi altri Purtroppo non si riesce Chiudiamo la polemica Non c'è più niente Non c'è più niente C'è l'amica Silvana che mi scrive Io non voglio attaccare nessuno Ma è vergognoso quello che abbiamo visto Ma dove sono quelli che hanno fatto giustamente questa regola Ma deve valere per tutti Ma siamo in Italia Grazie per la tua bellissima canzone Un attimo che c'è una chiamata in diretta Pronto con chi parlo? Sono Giancarlo di Sera Mazzoni Ciao carissimo Dimmi pure Allora io non mi... Sono in diretta? Sì sì sei in diretta Però devi abbassare il volume della televisione Allora come hai detto Siamo tutti italiani C'è modo e modo di... Certo Scusi un attimo Abbassa perché devi sentire dal telefono Ci siamo? Ok adesso parla con me Allora dicevo C'è modo e modo di ti fare E siamo italiani Certo È stata una bella partita Ma infatti io non sto assolutamente dicendo questo Bisognava festeggiare perché Abbiamo goduto tutti di questa vittoria No Quello che hai detto è giusto Grazie Io ho avuto mia figlia lontano da settembre fino diciamo un mese fa Che non riuscivo ad andare a provare tramite quell'accidente di come che è venuto Con questo motivo sì Mi sono vaccinato Mi sono vaccinato Ho dovuto fare il tampone Ho dovuto stare là 48 ore perché era... Certo certo Possibile stare dentro solo 48 E poi vedi purtroppo dei tifosi che sono troppo 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 Non so Oltre ai ganchri Eh lo so Non aver paura di parlare No 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 assolutamente Io non ho paura di dire il mio pensiero Giancarlo Esatto È questione che purtroppo posso fare poco Però io che sono fermo da un mese e mezzo Non ho sentito di parlare perché parli di una cosa che Dato che voi lavorate su... Esatto Sui spettacoli o meno E vengono vietate tante cose Appunto Poi dopo vedi quelle cose lì Esatto Sono italiano eh Eh ci mancherebbe Grazie A casa urlando Ma non in quella maniera Effettivamente Ma c'è bracci e tutti Esatto Ti do ragione Grazie per la solidarietà Ciao Giancarlo Ti chiedo solo un grandissimo favore Grazie mille Dimmi 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 Io amo tutti i quarti Però Matteo Benzi per me Da come canta Da come mette l'anima Da come interpreta le canzoni per me È numero uno Allora io ti accontento Tra poco arriva una canzone Di Matteo Benzi Di Matteo Benzi Mi fai un grandissimo grandissimo piacere Già segnato Ciao Giancarlo Grazie Grazie Ciao 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 Arrivederci Ciao 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 No perché ragazzi Mi viene un po' da sorridere Perché quando vedo certe immagini Dove ci sono spettacoli Con transenne Per poter delimitare Per poter fare Distanziate le persone Poi vedi quelle scene Dove praticamente Sono tutti appiccicati Allora io mi chiedo È possibile Che siano stati fatti Tutti i tamponi Tutti col Green Pass Vabbè Voglio crederci Voglio crederci Non voglio mettere in dubbio Questa cosa qua Andiamo avanti E voglio fare gli auguri Di buon compleanno Alla nostra cara amica E collega Rita Jesse Che oggi appunto Compie gli anni E ci andiamo ad ascoltare Una sua canzone Se tu fossi qui Amici Vi presento La discografia completa Dell'orchestra Nicola Marchese Spegni la luce Mare mare Stella del nord Un angelo nel blu Ed ecco Le ultime novità Grazie musica Musica e parole Per informazioni E prenotazioni Telefonate al numero 393 1912 091 In viaggio con Nima Organizza un weekend Lungo a Gatteo Mare Dal 31 luglio Al 3 agosto Presso l'hotel Metropol Pensione completa Con bevande e i pasti Servizio spiaggia Assicurazione sanitaria E annullamento Trasferimento Andata Ritorno In pullman Quota di partecipazione 390 euro A persona Tutto compreso Due intrattenimenti Musicali pomeridiani Con Nicola Marchese E Monica Incluso aperitivo Durante il soggiorno Dirette radio e tv Di Nima Show Live E vado a liscio Per informazioni E prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco Telefono 0522 9020 54 9020 19 Oppure 0521 06 14 12 Tadini e Verza Storico negozio di alta moda maschile A Modena Ti offre da sempre qualità Professionalità Ed eleganza Tadini e Verza Dal 1880 Il piacere di vestire italiano Il camping Le Fonti Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano A mille metri sul livello del mare È un'ottima base per escursionisti Oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende Oltre che tanti accoglienti bungalow A vostra disposizione Anche un centro benessere con idromassaggio Piscina Grotta del sale Con vero sale dell'Himalaya E bagno turco Durante tutto l'anno Creiamo eventi a tema Grazie a uno staffa di animatori professionali Il camping Le Fonti Ti aspetta a Cervarezza Terme Concedetevi una pausa con Express La qualità in distribuzione automatica Distributori di bevande calde e fredde Snack Area break Prodotti complementari Disponibile caffè in capsule Express Via Domminzoni 110 A Gattatico di Reggio Emilia Telefono 0522 672392 Oppure numero verde 800 911 770 Novalis La passione Il vero motore del nostro lavoro Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani 40 anni e sembra ieri www.novalis.it Eccoci rientrati, quanti messaggi di solidarietà ragazzi che state mandando Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che anche voi che ci sostenete la pensate in modo uguale Mi scappa da dire che ci sono lavori di serie A e di serie B Questo è un sistema studiato per colpire alcuni settori Hanno proprio rotto, questo è il pensiero dell'amico Paolo di Parma Poi ha telefonato anche Giorgio di Borgotaro che ha detto anche Anch'io sono, ho tifatto Italia Però vedere anche queste immagini Dà veramente fastidio E non ce la prendiamo solo con i giovani Perché all'interno dei festeggiamenti C'erano anche persone più sud età Pertanto Giorgio ha detto E' gente senza cervello Non c'entra l'età in questo caso Va bene dai, chiudiamo la polemica Ciao Nicola, volevo salutare le mie vallette di Calabria Non ho notizie da tempo Se ce la fai, Allegria di Morandi Ti accontento caro Flavio di Corcagnano O di Pannocchia come si vuole dire Le tue vallette non le ho sentite stamattina Ma c'è Ada che non vede il canale Dobbiamo risolvere questo problema alla nostra Ada Dovrei aggiungere auguri A Hermes di Edies Mi ero dimenticato No, ma mica si dice così Facciamo gli auguri di buon compleanno Al George Clooney di Pannocchia Eccolo qua L'amico Hermes Che oggi compie gli anni Si assomiglia un po' a George Clooney Andiamo con la musica dai Allegria di Gianni Morandi Io spero non si blocchi niente Perché sicuramente su Facebook si bloccherà Dopo ripartiremo Non è un problema Ecco qua che arriva Mamma mia che voglia di anguria Che mi ha fatto venire Bella rossa Bella accesa Ne ha voglia Voglio approfittare anche a salutare Il mio amico Sauro Grisendi da Cavriamo Che è riuscito Ha seguito il mio consiglio Ed è riuscito a trovare il canale Nella televisione più nuova Più grande in sala Ma ieri mi ha guardato lo stesso Dal telefonino Perché era intento In una caccia alla talpa Nel suo giardino Sauro come è andata? Tutto bene? Hai vinto tu? O hai vinto la talpa? Chi lo sa? Fammi sapere Dai Andiamo avanti E voglio ricordarvi Un appuntamento Scusate Ecco qua che arriva La Bastia La Bastia in qui di San Posidonio Modena Via Togliatti Domani sera Mercoledì 14 luglio Arriva Roberto Scaglioni Ingresso 10 euro Con spuntino a metà serata Infopronotazioni Deborah al 348 52 98 529 Mentre invece il 21 Arriveremo io e Monica In questa bellissima ospitata Dell'amico Roberto Morselli E Deborah Andiamo con questa canzone Dai fuori Stanno arrivando i temporali Qua si parla di crescentine Però vedo la neve nel video Ci gustiamo questo videoclip Di Roberto Scaglioni E voilà E l'anguria prima Adesso il vino E la cantina Ma tra poco andrò a pranzo Anch'io E siamo a posto Vado ad accontentare L'amico Giancarlo di Serra Mazzoni Che ha richiesto Matteo Benzi Cielo di Stelle Eccolo qua che arriva Tutto per te E voilà Cielo di Stelle Ne approfittiamo Per ricordarvi Un altro appuntamento Che ci riguarda Eccolo qua Sabato 17 luglio Dalle ore 20 Saremo a Ponte Novo Di San Polo d'Inza Via da Palmiro Togliatti 24 Preso la stazione Eni Prima volta che mi succede Di fare una salata A un distributore di benzina Però nella vita Tutto è possibile Infopronotazioni Tavoli Al 331 65 11 244 Intrattenimento musicale Con Nicola Marchese E Monica Pericione al tavolo Accesso libero a tutti Se in moto Meglio Perché ci sarà In occasione Il primo ritrovo Dei Nima Bikers O meglio Ve lo spiego Per chi non lo sa In In occasione del Covid Forse Col fans club Chi aveva appunto La moto O la Vespa O lo scuterone Ci si trovava Ci si trovava Domenica Ci si faceva Un giro E poi si andava Ovviamente A mangiare E in questo caso È nata Una passione in più Che ci accomuna E in questo caso Tutti lì Con la moto Però ovviamente È libero A tutti quanti L'accesso Ci mancherebbe Ciao carissimo Nico E gli amici Telespettatori Ti dirò Che mi hai portato Fortuna Perché dopo tanto L'ho catturata La talpa Ciao Sauro Ciao Raffaella Si vede che la talpa Era una talpa Ballerina Mettila In una gabbietta E così Gli fai Ascoltare La nostra musica E magari Si mette a ballare Andiamo A prendere Una canzone Anzi no Si Perché mi è stata richiesta Ne accontento così Con un piccione Con una fava Accontento due piccioni Portate pazienza ragazzi Hanno richiesto Blu L'amore è blu E la devo dedicare A Giorgio di Borgotaro E a Laura Di Bologna Che sta aspettando Il mio Icd Molto Come dire Agitata Perché lo vuole Settimana prossima Ragazzi Molto probabilmente Avremo a disposizione Il nuovo cd Peccato Mortale E intanto Blu L'amore blu E voilà Questo era blu In quei di Rodi Nel 2015 Andiamo Ricordatevi ragazzi Gatteo mare Dal 31 luglio Fino al 3 di agosto Ecco qua che arriva lo spot Saremo insieme Per 4 giorni Belle dirette Poi due aperitivi Con musica E poi ci gusteremo Anche i primi due giorni Che rientrano All'interno della settimana Rosa Della riviera romagnola Ecco qua In viaggio con Nima Organizza un weekend Lungo a Gatteo mare Dal 31 luglio Al 3 agosto Presso l'hotel Metropol Pensione completa Con bevande e pasti Servizio spiaggia Assicurazione sanitaria E annullamento Trasferimento Andata Ritorno In pullman Quota di partecipazione 390 euro A persona Tutto compreso Due intrattenimenti musicali Pomeridiani Con Nicola Marchese E Monica Incluso aperitivo Durante il soggiorno Dirette radio e tv Di Nima Show Live E vado a liscio Per informazioni E prenotazioni Agenzia Viaggi Porto Franco Telefono 0522 9020 54 9020 19 Oppure 0521 06 14 12 Molto bene Rivolgetevi All'Agenzia Viaggi Porto Franco Di Sant'Ira Rodenza E Parma Contentiamo L'amico Marcello Di Forlì Che ci ha fatto I complimenti Sia a me Che a Monica Per la nostra Conduzione Che siamo molto Simpatici E lo contentiamo Con Mirko Gramellini Birba Eccola qua Che arriva La polca E guarda Questo era Gramellini Ormai siamo In chiusura Ragazzi Stessa ora Stesso canale Stessa spiaggia Stessa mare A domani Sempre qui Su canale 86 Con Vado Aliscio E ci salutiamo Con Pamela Corradi Dell'orchestra Daniele Cordani Per Giuliano Di San Giovanni In Persiceto Lacrime Amare Bye bye